Ehi, compagni e compagni, io vorrei parlare di una parola che non usiamo più, che non usiamo mai, anche se sta qua sotto, la parola socialismo. E lo farei con un piccolo aneddoto che fra l'altro è capitato proprio quando è venuto Gianni a Bologna. Io sono intervenuto, alla fine dell'intervento mi si è avvicinato un compagno molto anziano, che non conoscevo, mi ha spiegato di essere stato un operaio tutta la vita, compagno geminiano, e mi ha detto, sai, perché questi dirigenti non hanno più presente una cosa fondamentale, la questione del soggetto e dell'oggetto. Io l'ho guardato così. Perché, vedi, chi lavora nel posto di lavoro deve poter decidere cosa produrre, come, per quali bisogni, e farlo assieme ai propri compagni. Sono stato chiaro? Ha detto, chiarissimo. Dico, questa è l'essenza del socialismo. Ecco, io penso che oggi una società non sta assieme, se l'autorità statale non è innervata dalla passione per la storia e la cultura nazionale, una volta dicevamo tenere assieme classe e nazione, no? Che la passione è in grado di approfondire la spiritualità dei cittadini affinché possano investire affettivamente la compagine statale e se il lavoro non rende sempre più concreta la libertà umana dando senso all'esistenza. Cultura, spiritualità, libertà fondate sull'esistenza piena e dotata di senso si tengono per supportare il progetto democratico e superare la lacerazione tipica del moderno, che è stretto fra privatismo borghese e autorità dello Stato. E oggi, dopo trent'anni di neoliberalismo e neoliberismo che hanno ridotto di nuovo il lavoro a una merce e l'autorità dello Stato a mera tecnica di amministrazione, siamo nella situazione in cui le società democratiche europee non reggono, sono prive di legame sociale e investimento affettivo, come il risentimento antipolitico in tutta Europa ampiamente ci dimostra. La stessa costruzione sovranazionale, che avrebbe bisogno di ancora più connessione tra spiritualità, cultura, libertà, non resiste proprio alla lacerazione imposta dal tremendo combinato disposto di tecnica, liberismo e secolarizzazione iperconsumista. E allora un'eticità post-tradizionale, che voglia solo fondarsi su regole formali, da considerarsi, come dire, solamente appunto come regole, non regge alla sfida post-moderna del bisogno di identità e del etos comunitario. È un bisogno che noi abbiamo a fronte dell'atomismo imposto dal neoliberalismo e dalla secolarizzazione, che ha frantumato sempre più le nostre esistenze. E la stessa convivenza tra culture diverse nel mondo globalizzato non si mantiene solo con la proposizione di regole formali a cui appassionarsi per una sorta di patriottismo costituzionale. E c'è un elemento tragico, quindi, nel moderno, nella sua tensione tra norme che costituiscono l'ordine sociale e l'autorealizzazione dell'individuo. Ed è lì che non solo il comunismo, ma anche il socialismo, come dire, ha perso legittimità. In questa tensione, qui invece noi dobbiamo dare una nuova risposta. E questa tensione, però, si attenua se siamo in grado di pensare allo Stato come istituzione cui destinare affetto, in quanto considerata nostra non solo e non tanto come sfondo che permette dei progetti di vita, ma come campo in cui si squaderna e allo stesso tempo si cerca di attenuare quella tensione tragica. Insomma, se si configura come uno spazio della politica in cui tutti possono produrre elaborazione simbolica della realtà per pensare quel tragico, per diminuire la distanza fra sé e le cose, affinché si possa rappresentare pubblicamente questa tensione, questa fragilità, questa difficoltà. E il lavoro, appunto, la questione che mi diceva il compagno Geminiano, del rapporto fra soggetto e oggetto, è ancora il campo in cui attenuare questa tensione, questa lacerazione. Tenere assieme soggetto e oggetto è ancora la sfida del socialismo ed è la sfida che può stare all'altezza dei tempi, di questi tempi nuovi, fatti di antipolitica, risentimento, egoismo, privatizzazione, lacerazione. E quindi si è liberi perché ci si è liberati assieme agli altri, perché il conflitto del lavoro contro il capitale non è un ring in cui combattere con regole precise e non è nemmeno un luogo sicuro in cui percepire un reddito. Il campo del conflitto fra capitale e lavoro è quello in cui si unifica la vita, si mantiene viva la propria personalità alla ricerca di un senso unitario. È il campo della mediazione per eccellenza. Volevo concludere con un piccolo appunto. Io ho sentito parlare oggi molto di conservazione e innovazione e abbiamo cercato tutti di giustificarci. Abbiamo detto noi non siamo conservatori. Bene, io vorrei solo dire una cosa. Noi tutti, quasi tutti, noi veniamo dalla sinistra storica, comunista e sappiamo che tutte le rivoluzioni giacobine, leniniste sono fallite proprio perché non hanno tenuto assieme conservazione e innovazione. Tradizione e innovazione. E questo ce l'ha insegnato Gramsci a partire dalla lettura di Cuoco, come tutti noi ben sappiamo. E Gramsci, insegnandoci questo, è stato anche un grande innovatore. Forse l'unico grande innovatore nel campo del marxismo del Novecento. Ecco, allora, cerchiamo di avere il coraggio di difendere anche la conservazione perché è solo dalla compenetrazione fra conservazione e innovazione che le società stanno insieme e producono legame sociale. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.